Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Litto e benvenuti in un video che sicuramente è molto telefonato anche se il tempo per fare le cose attualmente non ce l'ho, ragazzi portate pazienza, fino alla fine di febbraio sono veramente in difficoltà a portare i contenuti che portavo prima per una serie di ragioni, sono personali spero di non doverle elencare qua su youtube, giustamente immagino che possiate avere dei problemi con questa cosa con il fatto che i video non stanno uscendo, però questo è un momento molto importante perché è uscito il trailer di Monsters Inc che è sicuramente uno degli annunci più importanti che ci sono stati su questo Kingdom Hearts 3 voglio mostrarvelo, lo guarderemo insieme, sicuramente faremo dei fermi immagini e quant'altro mi sono scritto un foglio con una serie di appunti da parte a parte, probabilmente ci sarà un po' di montaggio per far finta che la cosa sia fatta bene, in realtà è molto più artigianale di quanto non pensiate, ho qui il video skipperò frame per frame dove ci sarà la necessità di farvi vedere delle cose vedremo tutti i contenuti che sono stati pubblicati in questi giorni, quindi il trailer, la canzone sperando che non mi arrivi uno strike sul canale perché pubblicherò la canzone e anche delle immagini del making of che è stato presentato semplicemente al Premium Theater ma dato che era possibile fare le foto abbiamo ricevuto dei contenuti e ne possiamo parlare ragazzi, non perdere altro tempo e voglio solo dirvi che mi sono scritto tante cose ma non tanto sulla storia, voglio fare qualche piccolo appunto a livello di storia niente ragazzi, sappiate che semplicemente voglio fare un'analisi che è più vista dall'occhio critico di un giocatore che è fan della saga, che ha visto tanti problemi nel corso dell'evoluzione di questa saga quindi con Birth by Sleep c'è stato qualche problema di gameplay, con 3D ci sono stati grandi problemi di gameplay, con Balunra per dire, una delle mosse più strane ma magari ci sarà del tempo in cui sarà più facile parlarne, magari faremo altri video non perdere altro tempo dato che sono già due minuti che parliamo e andiamo a vedere di che cosa si tratta in questo trailer andiamo allora giustamente il trailer ci dice che è in development ma vediamo prima di che cosa si tratta cominciamo con la scritta che presumo sia uguale alla scorsa scritta che abbiamo visto nel... ok, ci fermiamo immediatamente perché qui già comincia con una frase abbastanza strana so che è in inglese, spero non vi dispiace il fatto che sia in inglese Sora dice qualcosa di ben specifico I know you're there, come out, you has beens praticamente dice so che ci sei, vieni fuori chiunque tu sia, insomma has beens, quando poi si parla di nobody, è strano infatti lui risponde con has beens why would you say that? quindi perché diresti mai una cosa del genere? lui lo conosciamo, è un personaggio molto importante quando l'ho visto per la prima volta ho detto wow, Lauriam fa la sua apparsa apparsa nel gioco, per la prima volta lo vediamo e in realtà c'è qualcosa di strano perché lui non si presenta come Lauriam ma c'è un grande problema secondo me di trama non capisco se Nomura lo stia facendo apposto oppure no Nomura però gioca un sacco su questi piccoli dettagli per fare le trame che quando forse avevo 12 anni mi dava un sacco di hype quando cominci a superare la soglia dei 20, 21, 22, 23 anni diventa un po' strano forse andare a giocare su questi dettagli andiamo a vedere di che cosa ci parla dunque Sora fa riferimento ai nobodies cosa molto importante ma adesso capiremo bene il perché sicuramente il fatto di vedere Marluxia in questo caso sappiamo che è Marluxia ragazzi perché adesso ce lo dirà che è Marluxia ci fa capire che sicuramente abbiamo a che fare con i nobodies saranno governati da lui? molto probabilmente sì quindi cerchiamo di capire meglio di che cosa di che cosa vogliamo parlare perché dice che appunto i nobodies non lo fermeranno non fermeranno loro e via dicendo ecco qui Sora parla della new organization new organization Sora di che cosa ci stai parlando? sicuramente ragazzi probabilmente stiamo parlando dell'organizzazione formata dai vari Xehanort formati nel tempo presi dalle varie zone tra virgolette del tempo da varie da vari momenti nel tempo non sono certo che lui stia parlando veramente di questo perché comunque questo potrebbe non essere effettivamente l'inizio sappiamo che l'inizio è all'Olympus Colosseum che grazie a Dio non ci è stato mostrato in questo trailer perché veramente sarebbe stato di troppo andiamo avanti ecco qui questa è la frase più importante dopodiché ci muoviamo più avanti dopodiché faremo un paio di commenti a livello estetico che comunque ci siamo secondo me ragazzi Marlux è stato mostrato sicuramente in una sua forma molto molto buona cioè sicuramente hanno aspettato di avere un buon modello di Marlux comunque anche l'abito è fatto veramente veramente bene a me piace veramente tanto perché comunque ripercorre quello che è stato l'engine di 0.2 oppure anche l'engine di Kingdom Hearts Keyback Cover molto interessante l'unica cosa che mi fa un po' spavento che in questo trailer si vede più che negli scorsi trailer è sicuramente il fatto che ci sia dell'aliasing sui capelli non so forse è qualcosa su cui si può lavorare non me ne ero accorto così tanto fino adesso ma quello che è importante qua ragazzi è quello che dice Marlux cioè dice the only organization quindi lui fa riferimento al fatto che l'organizzazione probabilmente fosse quella a cui apparteneva lui nessun altro and I è Marluxia Servait quindi si identifica come Marluxia non è Lauriam quindi pare che sia il nobody di Lauriam ancora una volta o semplicemente Lauriam non è più Lauriam e l'influenza del suo nobody ha creato Marluxia e ora lui si identifica come Marluxia queste ragazzi sono risposte che non avremo probabilmente nemmeno col gioco in mano però Nomura gioca tanto su questi dettagli e sicuramente ci sarà un perché di questo dopodiché Marluxia parla direttamente a Sora dicendogli how interesting is it it is to see you again Sora quindi lui ovviamente si riferisce agli eventi di COM quindi Chain of Memories però qua accade qualcosa di strano secondo me esatto Sora dice again giustamente non si dimentica perché se abbiamo tutti quanti giocato a Kinemarts Chain of Memories ci ricorderemo che Sora perde la sua memoria entrando nel castello dell'oblio e procedendone all'interno però c'è un dettaglio strano in questa cosa e spero di potervelo far vedere alla fine di questo trailer dove accade l'opposto però insomma ci teniamo il dubbio qua Paperino e Pippo non sanno di cosa si sta parlando dopodiché Marluxia dice ancora una volta a shame you have no memory of me quindi è incredibile che tu non ti ricordi di me magari Marluxia non sa bene che lui aveva perso la memoria ma mi pare molto molto strano secondo me Marluxia non sta parlando direttamente a Sora ragazzi e questa è una preoccupazione molto molto grande capirete il perché because I remember you exceedingly well probabilmente Marluxia fa riferimento al fatto che lui non è proprio lui quindi è la versione 2.0 probabilmente è Lauriam che si identifica come Marluxia grandi problemi ci sono sicuramente a livello di confusione della trama spero che ci sarà il tempo di parlarne al meglio spero che in tre parole abbiate capito dove sono da dove arrivano le mie preoccupazioni però ragazzi stiamo parlando veramente tanto andiamo avanti perfetto andiamo avanti una nuova scena di Toy Story questo piccolo intermezzo tra l'altro secondo me è veramente veramente buono questo Heartless che entra in scena veramente mi stupisce perché è fatto veramente veramente bene c'è un depth of field perfetto i materiali parlano quasi da soli ragazzi sicuramente il mondo di Toy Story sarà uno dei migliori cosa che secondo me non si potrà dire di Monsters Inc ma andiamo a parlarne subito dopo qua è tutto perfetto ragazzi micro problemi di aliasing che non avevo mai notato sicuramente sulla sulla parte del dorsale qua di Buzz però qua ovviamente è una scena di intermezzo probabilmente è di quando arriviamo nel mondo stanno pianificando di saltare sull'Heartless ma arrivano Sora e i loro amici che dato che è la prima volta che ho la possibilità di parlare anche di questi trailer voglio dire che mi ha stupito il livello tecnico che è stato raggiunto qua su Toy Story perché veramente mi lascia senza parole è veramente fatto bene sicuramente è molto azzeccato dunque si fermano perché vedono Sora gli amici che vanno a combattere e qua passiamo a Monster Zinc we scare because we care è il motto ovviamente della Monster Zinc però c'è un qualche problema strano adesso io non so se è facile mostrarlo in un video dove adesso andremo avanti frame per frame dove giustamente ovviamente la qualità non è altissima quindi io facendovi vedere un filmato in 720p è difficile per me mostrarvi effettivamente dove siano i problemi l'unico mio problema grande è che non vedo un grande dettaglio qua davanti o che il gioco sta mettendo si sta mettendo probabilmente in testa che dovrà allocare in memoria grandi spazi grande cose quindi tira un po' indietro sul dettaglio però mi sembra che queste colonnine abbiano dei forti problemi di aliasing mi pare un po' spoglia questa entrata non so se è voluto ovviamente vedrete in alto adesso il fatto che ci sia un fotogramma successivo dietro l'altro farò un po' di confusione ecco qua già vediamo forti problemi di aliasing che si vedono su questa parte di questa impalcatura davanti alla scritta we scare se vedete c'è quell'impalcatura la parte bassa è stagliuzzata secondo me l'aliasing va riperfezionato ed è un problema che vedremo durante tutta la parte durante tutta la sezione relativa a monster zinc cose che mi preoccupano però sono sicuro che non sia la versione definitiva del gioco ragazzi mettetevela in testa uscirà fuori anche sei volte durante il trailer la scritta this game is now in development e è una versione in development del gioco comunque una presentazione molto molto teatrale molto molto figo ragazzi ovviamente sono rimasto colpito e qua e ci troviamo ancora una volta di fronte ad una delle scene meno abbellite secondo me e questo mi fa sorgere il dubbio che monster zinc sia stato un mondo che è dovuto saltare fuori dal nulla perché i leak si sono fatti troppo invasivi e dunque era necessario fare qualche statement ufficiale sul gioco perché c'è qualcosa di strano se guardate ancora grandi problemi di aliasing qua sulla porta dietro se vedete ci sono delle seghettature cosa che non mi fa impazzire Sora e tutti i contorni che ci sono attorno alla testa e vi dicendo delle cose subiscono delle strane seghettature probabilmente ci sono dei problemi con il depth of field il retro di questa scena mi pare un po' spoglia secondo me c'è molto ancora da fare questa però è la prima volta che vediamo in faccia le versioni da mostro di Goofy Donald e Sora Donald avrà un perché cosa che ho amato sicuramente quando ho visto il trailer Goofy mi convince è un mostro Sora convince anche se qualcuno ho sentito lamentarsi del fatto che sia troppo felina come versione di Sora ragazzi per me va assolutamente bene non ci sono problemi su Sora è un design molto accattivante e vedo che stanno lavorando in una maniera spettacolare per quanto riguarda le animazioni perché ci siamo ragazzi è fatto veramente bene Sora e c'è un focus molto preciso su di lui sulle animazioni non vogliono fare gli errori che sono stati fatti con le scorse generazioni andiamo avanti ci presentano Sully e Mike Wasowski ecco qua si possono già vedere molto di più i contorni se vedete attorno al cappello di Pippo e attorno al cappello di Donald ci sono dei problemi strani ma anche sui capelli della bambina oppure sulla parte qua sullo staglio qua scusatemi sullo staglio che si vede qua della bambina ci sono dei problemi non capisco se con l'aliasing se con il depth of field non capisco quale sia il problema ragazzi non si sono mai visti prima forse sono io che ci do un occhio in più questi sono problemi tecnici ma vi ripeto che sicuramente è stupido parlare di problemi tecnici su una versione in development perché come abbiamo già visto ragazzi continuano a cambiare le cose tutte le volte che ci mostrano un trailer e ci fanno rivedere una scena già vista prima è una versione polished di quella scena non c'è molto da dire ragazzi se non su Sully ragazzi solo io ho notato che Sully ha dei forti problemi sul pelo non lo so non mi ha convinto e mi sembra fin troppo fatto male perché sia una versione ancora così distante dall'essere in development mi chiedo perché Merluxia ci abbiano messo così tanto per mostrarci una versione così fatta bene del modello quando poi invece di Sully abbiamo una versione che è così poco convincente il pelo assolutamente non mi convince è troppo plasticoso troppo non so spiegarlo non ci siamo secondo me spero che questa cosa venga corretta nel resto non c'è molto altro da dire se non che ovviamente la scena è molto divertente l'ho apprezzata un sacco non c'è molto da dire è una presentazione del mondo questo è uno stacchetto molto molto divertente la bambina che confonde Mike Vazowski con con Donald ancora una volta qua ragazzi le animazioni facciali sono veramente perfette capisco ora il problema di dove la gente dica che sembri troppo felino chi se ne frega ragazzi il pelo ha fatto talmente bene anche la coda mi convince veramente tanto sicuramente i giapponesi hanno qualche strana convinzione sui gatti però non importa ancora una volta problemi sui contorni però li vediamo solo su Donald sicuramente c'è un problema con con la depth of field non importa andiamo avanti e qua ci fermiamo perché andiamo avanti frame per frame allora possiamo notare diverse cose una delle cose più importanti e mi sposto per dire questa cosa ok dicevo una delle cose più importanti sicuramente è che come potete vedere qua sotto ed ho la prima occasione in assoluto per discuterne è il fatto di vedere due elementi aggiuntivi nel party oltre già ai tre classici quindi Sora Donald and Goofy più altri due l'avevano già visto nel trailer di Toy Story io non ho mai potuto fare la reaction o assolutamente un'analisi vediamo tante cose sinceramente in questa prima immagine perché vediamo intanto che ci sono tante varie facce disponibili per Sora Donald and Goofy quindi sicuramente ce ne sono anche per la loro modalità idol o semplicemente la versione non aggro quindi quando non sono in battaglia mi convincono molto sono tutte molto molto belle la questione del fatto di avere tanti personaggi che ci possano aiutare in battaglia qualcuno è preoccupato del fatto che i mostri smetteranno di attaccare Sora come ho visto anche parlare anche in altri video di altra gente che è molto più specializzata di me in questo trailer i nemici non sembrano effettivamente attaccare Sora ma credo che questa o sia una versione del una versione in development del trailer che appunto è fatta per mostrare delle combo è fatta per mostrare altre cose o semplicemente ragazzi fate caso al fatto che anche i vecchi trailer di Kinomarts 2 andatevele a recuperare non avevano effettivamente mostri che attaccassero perché sicuramente volevano mostrare altro ragazzi questa è una versione del rilascio per il marketing del titolo e c'è poco da dire per quanto riguarda appunto queste cose perché serve per mostrare la bellezza lo sfarzo che è stato potuto inserire in questo gioco però non c'è molto altro da dire cosa importante di cui parlare sicuramente ragazzi è che la scena in movimento è veramente ottima si muovono molto velocemente i personaggi il che è veramente buono soprattutto se siete giocatori che hanno la necessità di muoversi molto velocemente ci sono dei problemi molto forti di aliasing proprio qui sopra di me come potete vedere qua su questa su questa corda o su questo tirante insomma in metallo spero che verranno risolti però sembra un problema che si comincia a vedere un po' troppo spesso che si presenta un po' troppo spesso sali mi convince in questa versione comunque in movimento il command deck che non è un command deck assolutamente ma è semplicemente è un menu dei comandi è a tema il che è perfetto ragazzi non si poteva chiedere di meglio ricorda molto kinemarts 2 e mi fa piacere poterlo vedere questo mi piace assolutamente tanto l'ultima voce nel menu è link e presumo che link significhi summon o evocazione capirete di cosa sto parlando tra non moltissimo andiamo avanti facciamo forse frame per frame anche se non c'è bisogno forse insomma magari facciamo un play qua vediamo che Sora salta non c'è molto da vedere sulla parte della città qualcuno qua è preoccupato del fatto che quando vediamo Sora scendere non si capisce se Sora abbia la possibilità di muoversi dove gli pare o se sia obbligato ad entrare in questo buco ovviamente ragazzi vi sto facendo vedere il trailer nella speranza che l'abbiate già visto altrimenti recuperatevelo prima come possiamo vedere anche dai vecchi trailer Sora quando si butta da un'altezza che è più alta di un tot entra nella sua modalità dive che è un po' ripercorre quella di kinomarts 3d e vediamo che in questo caso viene sfruttata per entrare in un luogo specifico che è questo questo parallelepipedo creato da queste strutture insomma metalliche secondo me ragazzi questo è per dimostrare che Sora ha la libertà di andare dove gli pare all'interno di questa mappa e non è semplicemente obbligato ad entrare lì dentro non so se questa sia una parte che ci obbliga a fare questa azione per entrare nella Monsters Inc in qualche modo o altrimenti ragazzi capiremo il perché di questa cosa quando avremo il gioco completo vediamo che come è forzato lui ad entrare lì dentro non so se per i fini del trailer fosse obbligato ad entrare lì dentro io non so molto di questo come vedete qua è un po' spinto all'interno qua proprio in questo istante qua vediamo che è spinto all'interno della costruzione non lo so e sembra arrivare proprio qua sopra sopra questa pedana ma qua non c'è molto di cui parlare se non che forse è fatto per far vedere la mobilità o forse no come possiamo vedere qua sotto di noi le facce sono cambiate siamo entrati in modalità aggro Sora ha preso del danno quindi in questa versione del gioco già i nemici fanno danno anche se non vedremo praticamente mai Sora subire del danno vediamo che c'è il focus su questa cosa in terra che non so precisamente che cosa sia ma una cosa fondamentale da guardare ragazzi intanto è la tipologia di mostri perché c'è molto di strano in questi mostri ma capiremo il perché verso la fine del video ma ragazzi le shortcut hanno tre pallini quindi c'è molta possibilità di customizzare le shortcut anche se non mi hanno convinto completamente in 0.2 ma è buono che ci sia la possibilità di creare più shortcut non c'è molto altro da dire se non che Sora ha un nuovo keyblade questi mostri sembrano a tutti gli effetti degli unversed ma avremo la conferma verso la fine del trailer queste luci mi convincono molto sembra molto molto interessante come ambiente qui si possono vedere ancora meglio gli unversed qua vediamo che tira tira tra virgolette una eroga entra in modalità tundazza quindi non era una eroga scusatemi era un thunder si attiva il tundazza quindi probabilmente ha già attivato prima o un'altra volta un thunder e gli permette di entrare in modalità tundazza forse non lo fa una cosa strana che non riesco a capire in questi frame sono queste palline blu per dire se ne vede una sotto Sora non capisco se si amana probabilmente lo è anche se non vediamo accrescere niente forse sono focus balls non so come spiegarlo molto interessante certo non c'è molto da dire se non che qua abbiamo la prima nuova kiblet transformation di questo di questo trailer che è sicuramente a tema Monster Zinc molto interessante scopriamo subito il nome ci viene fuori qua a parte quick close quindi sono pinze ecco non mi veniva la parola pinze vediamo che ha una propria mossa quando entra e sicuramente sta già facendo del danno perché qua vediamo delle sfere al lato che sicuramente fan parte dell'attivazione una cosa che ragazzi non ho visto molta gente sottolineare è il fatto che Sora in questa forma è diventato rosso quindi che ci sia un legame che ancora una volta è cambiato tra le forms e la tipologia di kiblet transformation non si sa queste ragazzi sono risposte che non abbiamo in questo trailer probabilmente le avremo solamente con il gioco in mano sarà tutto più chiaro Sora comunque cambia colore anche se è in una forma diversa da quella sua naturale quindi anche se siamo nella versione mostro Sora cambia colore molto interessante che abbia il pelo diverso e qua c'è la prima fase questa è la porta chiaramente di Monsters Inc andiamo avanti qua c'è stato un attacco che sicuramente è sempre parte dell'attivazione qua si ferma e qua parte con una combo che è molto interessante come combo però è sempre strana ed è sempre quello che ci ha preoccupato anche se ormai spero di poter dar fiducia a questo gioco dopo Kinamard 0.2 perché come come molti sapranno forse l'ho già detto tante volte 0.2 mi ha convinto assolutamente tanto ok dicevamo quindi qua possiamo vedere la prima combo che viene effettuata con queste quick claws con queste pinze è molto veloce quindi non sbattete gli occhi la cerchiamo di capire comunque vediamo che il target è nel mostro di fronte a lui 1 2 e 3 quindi un colpo che va in su un altro colpo che va in su più un attacco circolare non so se è una ground combo o un aerial combo non lo sapremo mai probabilmente è una ground combo molto particolare mi convince però non c'è molto a dire ragazzi se non che è figo che ci siano queste keyblade transformation e vedere che abbiano più modalità di utilizzo qua vediamo una una prima visione abbastanza completa di questo keyblade che è molto molto bella ragazzi mi piace sicuramente e qua vediamo un segmento che è molto importante perché recupera una delle quelle una di quelle cose che sono state mostrate nel trailer di Hercules o perlomeno nello scorso trailer di tua storia in cui è stato mostrato anche questa cosa c'è questo passaggio della porta in cui lui salta sopra e colpisce queste cose non è chiarissimo cosa stia facendo forse sono heartless forse no comunque è una sezione dedicata solamente a Sora altri problemi di aliasing qua nella parte là in alto su quella piattaforma ma la non so forse è un problema che si ripresenterà tante volte non c'è un merge fatto proprio bene secondo me tra questo questo palo enorme e questa piattaforma spero che le cose miglioreranno nella versione definitiva del gioco andiamo avanti e qua passiamo e qua passiamo al mondo di Rapunzel o Tangled chiamatele come vi pare nel Kingdom of Corona quindi nel regno di Corona che non c'è molto da dire se non che è il mondo come è chiamato nella versione inglese Sora è nei suoi abiti di Kingdom Hearts 3 cosa molto interessante il party ancora una volta è composto da 5 persone quindi oltre a Sora Donald and Goofy abbiamo anche i personaggi di Rapunzel vediamo una combo di Sora quindi un taglio a 45 gradi un altro taglio a 45 gradi e dopodichè questo attacco circolare quindi sembra che la ground combo sia più o meno questo comunque un dettaglio che non sia molto discusso è questo keyblade ragazzi è il keyblade di di questo Kingdom of Corona vediamo che è un keyblade che comunque gli permette di attivare il mirage mirage staff quindi il bastone del miraggio lui ha la possibilità di attivarlo questi comunque sono heartless che abbiamo già visto si salta a 2 secondi dopo perché come vedete il mirage staff è passato a 28 secondi non è stato proprio diretto adesso non so se sia possibile mostrarlo facilmente qua sarà facile vederlo come vedete 30 secondi non è ancora sceso 29 29 e 7 29 e 6 e passiamo a 28 e 4 quindi c'è stato un micro taglio non so per dimostrare cosa qua c'è un'altra combo vediamo questo giro del keyblade che ricorda alcune delle abilità di Kingdom Hearts 2 molto interessante per farci vedere che ci sono anche dei combo modifiers che sicuramente fanno parte delle abilità attivabili qua vediamo che sferra un attacco e dopodiché rolla all'indietro e questo sembra essere un trend all'interno di tutto il trailer non si capisce bene probabilmente è voluta questa cosa a questo punto spero che non sia casuale qualcuno qualcun altro l'ha già fatta vedere e si spera che non sia casuale come vedete lui attacca e dopodiché colpisce un'altra volta e dopodiché rolla all'indietro quindi ci dà la conferma che è possibile cancellare le combo a metà questo creerà sicuramente tante altre cose una cosa di cui è necessario parlare sicuramente che tutti starete vedendo e che starete dando molta più importanza a quello rispetto a tutto il resto è il fatto che Rapunzel abbia la possibilità di attaccarsi agli alberi per fare degli attacchi Eioia ai mostri molto interessante si fa come un'altalena c'è da capire bene cosa succederà quando Rapunzel non sarà vicino a degli alberi probabilmente avrà delle altre maniere di attaccare e questo sicuramente ci darà un consiglio di andare verso gli alberi per far fare queste attacchi a Rapunzel ancora una volta doppio attacco roll quindi possibilità di cancellare la combo questa combo ancora non si è capita bene comunque ha fatto attivato questo mirage staff che lo porta in una sorta di wisdom form sora quindi una delle vecchie delle vecchie forms di Kingdom Hearts 2 molto interessante sicuramente questo keyblade attiva questo tipo di forma altre keyblade attiverebbero altre modalità c'è da capire se in un mondo è possibile attivare tutte le form possibili con i keyblade diversi sarebbe molto molto figo o molto più probabilmente no in ogni mondo si attiveranno delle form precise non lo so ragazzi è veramente difficile parlarne di questo perché in ogni in ogni trailer sembrano cambiare queste cose e non è veramente assolutamente chiaro comunque vediamo che la mobilità sembra assolutamente quella di wisdom form sora di Kingdom Hearts 2 con questi dash non fa molto con questo con questo mirage staff e veniamo veniamo catapultati immediatamente all'altra scena anche se prima volevo farvi vedere un micro dettaglio come vedete sora cambia l'abito come vedete qua è rosso non so se ok è visibile è rosso e alla fine di questa combo dopo che lui attiverà il mirage staff come vedete qua mirage staff lo attiverà come vedete è cambiato di colore negli outfit guardate attentamente rosso e blu insomma c'è un cambio molto netto insomma spero che l'abbiate colto anche voi questi heartless non c'è molto da dire sembrano quelli che tirano a roga e questa è una fase acquatica presumo che sia per riportare un po' il platforming di kingdom hearts 1 probabilmente per accedere a delle zone un po' più nascoste comunque vediamo che sono in idol quindi sono fuori completamente dalla battaglia interessante ragazzi ma qui non c'è molto da dire se non si può entrare in acqua e ora entriamo nei 1,2 secondi più interessanti secondo me di tutto il trailer quelli che mi hanno buttato la mascella a terra e mi hanno fatto dire wow che razza di gioco sarà mai questo eccola qua la summon di ariel ragazzi ci possiamo fermare un secondo per parlare di questa cavolo di summon ma vi rendete conto di cosa abbiamo visto questa ragazzi è veramente impressionante il livello tecnico e più che altro anche a livello di gameplay quanto sia interessante è incredibile vedere ariel questo è uno degli screenshot più belli in assoluto che secondo me si possono fare a questa scena qui è tutto perfetto la luce è perfetta su Sora lei è eccezionale ci dà la conferma che probabilmente i links abbiano a che fare col fatto che si possono creare queste summon con dei personaggi esterni finalmente ariel ha la possibilità di uscire veramente dal suo mondo era il suo sogno in kingdom hearts 1 in kingdom hearts 2 e qua possiamo finalmente portarla fuori non lo so ragazzi mi ha lasciato a bocca aperta qui il livello tecnico è sbalorditivo sicuramente hanno la possibilità di curare molto meglio queste scenette anche l'acqua è tutto perfetto non c'è molto da dire anche perché non vediamo in azione ariel ma vediamo ben altro e qua parte uno shotlock su cui non c'è molto da dire anche se c'è qualcos'altro da dire questi sono gli shotlock ragazzi classici di kingdom hearts birth by sleep e via dicendo però c'è qualcos'altro da poter mostrare ossia i mostri che sono presenti qua qua dietro non so se è visibilissimo ai vostri occhi ma questo è un dusk ragazzi di kingdom hearts 2 è un nessuno è un nobody su di lui possiamo vedere che non è nella sua forma normale ma è nella forma mirage staff infatti lo possiamo capire anche dai suoi vestiti il focus è sceso perché appunto questo qua è uno shotlock e qua possiamo vedere delle falci questi sono sicuramente ragazzi i nobody che sono stati mostrati tempo e tempo dietro in uno dei trailer del 2015 questi sono i nessuno che rappresentano marluxia chiaramente siamo nel mondo in cui probabilmente conosceremo marluxia e via dicendo non c'è molto altro da dire ragazzi questa è chiaramente la falce di marluxia quindi questi sono i nessuno rappresentanti marluxia e direi che possiamo andare avanti se no ci perdiamo in troppe chiacchiere qua è possibile vedere un'altra cosa che non è chiarissima probabilmente è una finisher ragazzi questa probabilmente è una finisher non c'è molto altro da aggiungere e non si capisce benissimo cosa sia molto spettacolare e torniamo a Toy Story qua ho la possibilità di dirvi che secondo me questo mondo è sempre il migliore sicuramente la realizzazione è perfetta Buzz e Woody hanno perso degli mp non è chiaro ragazzi l'hyper hammer è la forma sicuramente forza tra virgolette o perlomeno così era stata definita all'inizio vediamo che colpiscono dei palloni qua ci sono degli artless che comunque tipo questo qua che sono sicuramente stati presenti nei vecchi nei vecchi nei vecchi minuti che abbiamo visto prima erano quelli della scena iniziale qua abbiamo il drill punch sicuramente è quello che abbiamo già visto nello scorso trailer qua c'è Buzz che vola e qua si attiva una attraction flow che è praticamente la possibilità di salire su queste attrazioni di Disneyland per fare del danno per attivare delle cose in più ragazzi non c'è molto da dire questa la tazza è stata una tra le primissime assieme alla barca che abbiamo visto non so se la barca sia ancora all'interno del gioco lo scopriremo solo vivendo questo è molto interessante però c'è da capire effettivamente se queste teacups o come vengono chiamate qua nell'angolo mad teacups siano veramente utili a livello di danno se ci espongano non è chiaro ancora comunque molto molto interessante qua abbiamo 3000 oggetti a schermo e sembra che il framerate stia dietro al gioco non so se questa è una versione per ps4 pro o cosa andiamo avanti eccoci e qua siamo in una situazione nuova intanto possiamo vedere il command deck finalmente di toy story che è veramente veramente interessante qua possiamo vedere uno dei marziani molto molto interessante questa sembra una scena dedicata ad un boss qualcuno è preoccupato ragazzi di questo boss ragazzi è un boss molto probabilmente sarà se non il secondo mondo il terzo quindi non c'è troppo da dire ragazzi sicuramente sarà una battaglia molto molto buona molto accattivante questi razzi fanno paura sicuramente alle difficoltà più alte sicuramente ci faranno paura qua si nota una cosa che in pochi hanno fatto vedere che c'è un alone giallo attorno a Sora Woody e Buzz insomma sembra che ci sia una mossa che leghi tutti e tre l'avevano già visto con un limit o un trio insomma adesso non mi ricordo precisamente come si chiamassero insomma quelle cose che c'erano anche in Kingdom Hearts 2 quando le facciamo assieme ad altri personaggi c'è questo alone giallo che si mette attorno ai personaggi e ci dimostra che stanno facendo una cosa insieme andiamo avanti ci sta mettendo veramente un sacco e qua c'è una delle scene più belle che mostra quanto sia bello questo mostro questo mostro scusatemi questo mondo e ho visto qualcuno dire che questa è una sezione di Gummy Ship perché in una delle notizie si è parlata della Gummy Ship Open World questo giro quindi le missioni saranno molto più sono state definite alla Star Wars che nel classica nella classica visione della Gummy Ship classica non è una Gummy Ship questo è semplicemente un attacco limite assieme ai vostri compagni per fare del danno aggiuntivo tra l'altro vogliamo dire quanto è bella questa scena ops qua abbiamo un problema non so perché quanto è bella questa scena ragazzi è veramente difficile dire quanto sia bella perché appunto possiamo vedere Sora, Buzz e Woody che addirittura c'è questo fermo immagine questa è una regia veramente stupenda per un gioco secondo me è tutto azzeccato ci dà l'idea veramente di avere a che fare con un'azione molto molto epica vediamo qua che saltano tutti quanti ok dunque lanciamo il razzo si può vedere il danno che si fa al nemico mi sembra veramente poco su questo Rocket Ruckus non so effettivamente se sia il danno effettivo poi vedremo sicuramente il bilanciamento ragazzi su questo gioco deve essere ancora fatto è l'ultima cosa che faranno non vi aspettate che questi danni siano effettivi potete vederlo in alto assolutamente non ha fatto nulla entriamo in un'altra sezione di semi platforming ho sentito qualcuno aver paura del platforming su questo gioco ragazzi è vero su 0.2 ci sono stati dei forti problemi di platforming spero che abbiano preso il loro tempo per fare la cosa fatta al meglio possibile andiamo avanti ecco passiamo ad un'altra scena tornando a Monsters Inc vediamo che c'è l'Aff Power in alto quindi il potere della risata sicuramente è una sezione dove si scorta Boo o come verrà chiamata in questo gioco vediamo anche qui che c'è le quick close attivabili ma non le attiverà fa con questo flow motion che è recuperato da Kingdom Hearts 3D si lancia su questo su questo palo è interessante che ci sia sempre questo effetto ma ormai lo vediamo dai primissimi video una combo che li prende tutti quanti qua vediamo un soldier è uno di questi nuovi che ancora non conosciamo ecco dunque qua è successo qualcosa di particolare non ha attivato le quick close ma ha attivato il twin yo-yos vediamo però che Sora è comunque rosso quindi non si capisce bene se in quella forma posso attivare più cose o se i twin yo-yos sia un'evoluzione delle quick close non è chiaro non è detto ragazzi queste cose le scopriremo solo vivendo e qua vediamo una combo con gli yo-yo ragazzi è molto figo punto non c'è molto altro da dire e questa finisher mi ha colpito perché la musica cambia e è veramente strano ancora una volta vediamo qua gli orbs blu per terra non si sa ancora bene cosa refillino o che cosa siano fa danno sembra anche che faccia danno però ovviamente il bilanciamento andrà fatto qua c'è un limit probabilmente con i personaggi di monster zinc intanto Sora è tornato alla sua forma normale e qua abbiamo una comparsa di kingdom hearts 3d ovviamente gli spirits di kingdom hearts 3d in questo caso abbiamo miau wow e qua abbiamo una finisher che veramente fa paura per quanto riguarda gli fps speriamo che il tutto regga ho forte fiducia ma queste cose potrebbero essere fatte per spettacolarizzare il gioco sacrificando il frame rate speriamo in nulla di tutto ciò e qua abbiamo la scena finale del trailer ragazzi I need the half of me that sleeps on inside of your heart ho bisogno della parte di te che dorme all'interno del tuo cuore si sta riferendo a Ventus lui è Vanitas grande ricomparsa all'interno della saga secondo me non ce n'era assolutamente bisogno però lo prendiamo così per quello che è diciamo che è Vanitas non solo per la maschera ma per il kiblet che un po' lo caratterizza questa versione di Vanitas addirittura ha uno dei coat dell'organizzazione non mi fa impazzire quest'idea forse non hanno ancora finito la skin effettiva però quello che vi volevo dire quello che appunto si vedeva anche all'inizio del trailer è che Marluxia non è in grado di parlare al cuore di Sora o così non sembra mentre invece Xemnas come abbiamo visto nel vecchio trailer e come appunto vediamo in questo trailer fare Vanitas parlano direttamente al cuore di Sora che sono cose che mi fanno paura per quanto riguarda poi l'effettivo protagonismo di Sora all'interno di questo titolo però che cosa si può dire ragazzi se non che boh perché Vanitas può farlo perché Xemnas può farlo perché Marluxia non lo può fare perché Marluxia quando parla con Sora non può risvegliare la parte di Sora che è relativa a Roxas e quindi può ricordarsi di Marluxia invece non si ricorda assolutamente non lo so spero abbiate capito la mia preoccupazione però insomma andiamo avanti qui non c'è molto altro da dire lui sa chi è Vanitas perché Vanitas insomma perché Ventus sa chi è Vanitas perché dorme all'interno di lui e qua abbiamo la parte finale con il logo ragazzi non perderai altro tempo passerai immediatamente all'altro perché altrimenti durerà troppo questo video comunque il gioco è ancora schedulato per uscire nel 2018 perfetto non ci sono problemi l'avevo già detto anche in tante live questo ragazzi non è un gioco che uscirà nel 2019 Square Enix quando dà delle date per Kingdom Hearts il massimo che è capitato è che sforasse di un mese quindi se proprio dovesse non uscire nel 2018 aspettatevelo a gennaio del 2019 passiamo al prossimo trailer immediatamente però ok spero non mi arrivino degli strike sul canale per questa cosa che sto facendo spero che altrimenti ne valga la pena non so cosa dirvi ragazzi dopo faremo anche una considerazione finale su tutto il trailer a tutto tondo e direi che possiamo andare a vedere questo trailer che è la musica che a quanto pare dovrebbe accompagnare Kingdom Hearts 3 a livello di un simple and clean c'è qualcosa che non va nel beat sotto questa canzone ma intanto ce la guardiamo e dopo facciamo considerazioni dato che è l'ultima parte quella veramente importante anche se ci sono delle piccole chicche che ci dimostrano che il gioco è stato rimesso a posto dalle vecchie versioni che ci sono state mostrate questa è la theme song di Kingdom Hearts 3 grazie Utada tra l'altro ha fatto un grande ritorno secondo me questa è un'ottima canzone se non sul beat ma poi ho altre considerazioni da fare Ikaru Utada giusto per cambiare la cosa questa è una scena che conosciamo e questa non sembra aver avuto cambiamenti questa è una scena che ha avuto invece grandi cambiamenti ragazzi e si possono vedere intanto dall'HUD questo è finalmente il command deck dell'Olimpo che è fatto veramente fatto bene non so se era così anche prima ci sono dei cambiamenti sulla posizione di alcuni di alcuni bauli che qua non compaiono più la cosa fondamentale da guardare ragazzi è che Sora qua è ancora negli outfit nell'outfit di Kingdom Hearts 2 lo si può vedere da qua ma lo si può vedere anche da qua con questa catena che va addirittura sopra all'HUD della vita cosa veramente veramente bella sono contento che ci sia stato questo cambio perché è veramente una chicca in più qui ovviamente c'è il dive questa sezione è cambiata come potete vedere sicuramente questa sezione comparirà prima di quella che abbiamo appena visto perché non abbiamo ancora qui la barra del del focus interessante come no questa parte è stata un minimo modificata qui però la possiamo vedere col command deck anche se sembra piuttosto definitiva passiamo al kingdom of corona con questa kibble transformation qui possiamo rivedere ancora una volta questo rock titan però siamo prima del cambio dei vestiti ma dopo aver sicuramente battuto il titan del rock titan scusatemi lui non è il titan lui è un heartless di roccia però siamo sicuramente dopo aver battuto il titan perché abbiamo la questa barra che riporta a max che è appunto quella del focus abbiamo già Hercules con noi e questo ragazzi è un modello di cui dobbiamo parlare perché lui è cambiato assolutamente un sacco dalle orecchie che prima erano tonde anche se sono ancora troppo grandi secondo me forse potrebbe essere un problema di prospettiva sono cambiati i capelli si sono creati degli artefatti qua in alto per quanto riguarda l'aliasing che non capisco il motivo è cambiata la luce dietro di lui e gli occhi sono decisamente più piccoli sono decisamente più giusti ora il modello ci siamo fatto bene prima era veramente una porcata scene che ovviamente sono fatte per fare un po' di vendita del gioco scene anche nuove questa è probabilmente la scena di Vanitas esatto Vanitas ragazzi ha fatto veramente veramente bene mi ha veramente stupito ma come Mike Vazowski secondo me sono fatti tutti veramente bene tranne Sally questa è una scena che già conosciamo anche se con più problemi di aliasing rispetto al solito non so cosa sia successo ragazzi ma sono tutte idee lui è cambiato assolutamente un sacco è cambiata la luce su di lui il che gli rende la faccia più normale rispetto a quella che aveva prima che non era assolutamente normale e questa è la scena in cui in cui Xemnans parla direttamente al cuore di Sora Sora comunque mi sembra che non sia cambiato più di tanto Goofy ha questa posizione che sembra un pelino cambiata per dare spazio all'altra che abbiamo visto anche prima con Marluxia e qua abbiamo una scena molto importante per cui tutti sono impazziti vediamo per la prima volta Riku ragazzi nell'outfit nuovo che è molto interessante Topolino non riesce a sembrare giusto mai i movimenti di Riku non mi fanno impazzire ma l'outfit è veramente perfetto l'outfit invece su Miki non mi fa impazzire non mi fa assolutamente impazzire di chi sta parlando Riku tanta gente ha speculato che stia parlando della versione replica di Riku ragazzi come è possibile fare una teoria su tre parole come sono arrivati qua intanto loro due sappiamo che dovevano allenarsi ma questo è un posto ben specifico della saga perché sono qua perché il Kibblade è tagliato perché lui non lo può più usare perché lo vuole lasciare al Rikuplica o Riku Replica non è chiaro ragazzi non è possibile fare speculazioni su questo la cosa fondamentale a ricordarsi ragazzi però è che ha l'occhio e sapete benissimo l'occhio su questi Kibblade cosa sta a significare comunque sembra un abbandono di Riku forse la simbologia del simbolo degli Heartless è molto voluta sembra un abbandono di Riku verso il vecchio per passare al nuovo e basta direi che qua abbiamo concluso anche questa sezione qua ok prima di chiudere il video vi voglio parlare delle ultime due immagini so che durerà un sacco questo video però ci tenevo veramente tanto ragazzi prima parliamo delle due immagini e poi facciamo una considerazione finale ci vediamo tra un secondo ok siamo nella parte finale di questo video volevo farvi vedere un paio di cose commentando anche un paio di news ma comunque la Gammyship volevo parlarne nel video ed è venuto fuori comunque quindi sono abbastanza contento che sia andata anche comunque così per il fatto dell'open world parliamo di questi due screenshot che appunto stanno a sottolineare una versione in development ma ci fanno vedere molte tantissime cose relative al mondo di Rapunzel che probabilmente verranno riproposte anche in altri mondi prima tra tutte ragazzi questa cosa dell'avere delle persone degli NPC che appunto popolino questi ambienti realmente renderebbe la cosa assolutamente super entusiasmante abbiamo anche una conferma assolutamente che lo staff di Square Enix utilizza la Unreal Engine dato che vabbè era chiaro ma ancora non avevamo visto immagini di questo tipo in questa immagine non si può vedere moltissimo sono appunto questa piazza principale che è realizzata veramente veramente bene sembra realizzata veramente veramente bene poi ragazzi fin quando non avremo tra le mani effettivamente sarà difficile poter dire qualcosa e invece nell'altro screenshot ancora una volta è possibile vedere tante cose comunque è possibile sottolineare tante tante cose come per dire ancora la presenza del party di qualcuno in più qua scopriamo che alla Square Enix utilizzano Windows 7 che è un pellino vecchio però probabilmente lo faranno per problemi di stabilità con Unreal Engine che magari non può stare dietro agli update di Windows 10 ragazzi che dire questa è una cosa importantissima sicuramente perché renderà gli spazi molto più popolati comunque vediamo che tante degli NPC che compaiono qua in queste scene sono effettivamente personaggi che compaiono anche nei film quindi c'è una cura ancora più maniacale di questo tipo di dettagli sicuramente a Square Enix sanno che stanno facendo un gioco che dovrà assolutamente arrivare alle aspettative di tutte le persone che sicuramente stanno aspettando questo gioco ormai da tanto dovrà essere una degna conclusione di un filone narrativo noi sicuramente ne parleremo di questo filone narrativo andando verso l'uscita del gioco quindi aspettatevi assolutamente dei contenuti ma dopo la fine di febbraio perché altrimenti faccio veramente fatica ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto cosa che voglio dirvi in generale è che secondo me a livello grafico quindi a livello tecnico ci siamo sembra che il gioco stia dando tutto quello che deve abbiamo dei micro problemi in questo trailer che forse non erano stati sottolineati prima ma ho visto troppo aliasing ho visto troppi problemi strani dei contorni soprattutto dove soprattutto dove il depth of field viene utilizzato anche per separare dei personaggi nelle cutscene ma del resto le animazioni sono qualcosa di incredibile il livello è spaventosamente più alto rispetto alle scorse produzioni alle vecchie produzioni di kingdom hearts e spero con tutto me stesso che questo stia ad indicare un prodotto che ci stupirà veramente tutti c'è poco da dire a livello di bilanciamento perché comunque il gioco fino a quando non uscirà non sarà possibile dire che il gioco è bilanciato meno speriamo ovviamente tutti quanti di non essere i beta tester questa cosa l'ha già detto per esempio biscuits speriamo di non essere i beta tester di un gioco al day one perché altrimenti chi lo giocherà al day one si subirà una versione brutta del gioco invece chi lo giocherà dopo che non sarà fan si giocherà una versione più pulita meglio realizzata spero che si prendano il loro tempo secondo me questo gioco ragazzi non uscirà prima di ottobre novembre dicembre 2018 non ve lo aspettate prima qualcuno punta verso luglio ma mi pare veramente strano che se qualora dovesse uscire il gioco a luglio non si fosse già data una data di rilascio perché lo sapremmo già ve lo assicuro lo sapremmo già alle 3 molto probabilmente sapremo la data o forse secondo me addirittura prima lo scopriremo solo vivendo ragazzi io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qua so che è veramente veramente lungo ma se siete riusciti ad arrivare fino a qua fatemelo sapere con un commento e fatemi sapere anche cosa ne hai pensato del fatto di ricevere dei video di questo tipo se ne vale la pena se vale la pena spendersi così tanto anche a livello proprio di fiato per parlare di questa cosa mi raccomando fatemelo sapere con un commento lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi per non perdervi i prossimi contenuti su questo canale che saranno nella direzione di Kingdom Hearts come saga fino all'uscita di Kingdom Hearts 3 marceremo a tutto tutto volume verso questa direzione e noi direi che ci rivediamo in un prossimo video alla prossima ragazzi e ciao 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 Grazie.